Con Michele Castogliolo al termine del derby di eccellenza tra Real Forio e Barano, uno a uno, diciamo che il Forio dopo il gol è stata un'altra squadra, però c'è qualcosa da rivedere secondo te nell'approccio alla partita? L'andamento delle gare lo puoi prevedere, puoi pensare che succeda e prepari la settimana, poi capita un episodio tipo il gol del Barano e cambia un po' tutto. Il Barano è stato bravo a sfruttare questo calcio da fermo, dopodiché hanno fatto la loro partita giustamente cercando di difendere la rete di vantaggio. Noi eravamo preparati per giocarla in un certo modo, poi tutto all'improvviso con l'episodio è cambiata un po' la situazione e sono stati bravi nel primo tempo, noi un po' contratti, poi siamo rientrati nei spogliatoi e abbiamo un po' cambiato la disposizione in mezzo al campo e è andata meglio, infatti siamo riusciti a pareggiare. Poi si sa, i derby sono sempre partite particolari, ci sono mille motivazioni in ballo alle quali i giocatori fanno riferimento, per cui è una partita particolare, c'è la possibilità di vingerla al 50% tutte e due le squadre, comunque posso dire che è stata una bella partita. Sono valori che rischiano anche di essere falsati per via dell'importanza della partita, mister? No, vabbè, io penso che nel primo tempo il Forio è stato un po' timido, un po' contratto, anche perché ha preso il gol subito, poi nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare, infatti ci sono state delle buone trame, di là rispondevano il Barano, noi avevamo delle mosse loro con le loro contromosse, alla fine la partita è stata molto equilibrata, peccato, c'è stato un paio di azioni buone, specialmente quella di Arezzo, abbastanza facile, che l'abbiamo creata un po' per la nostra capabilità, un po' per un errore tecnico del loro difensore, l'ultimo, potevamo anche vincerla. Sempre su un episodio, eh? Sempre su un episodio, di questo abbiamo parlato anche con Isidro Di Meglio, degli episodi, diciamo, di riuscire ad indirizzarli verso i propri interessi, questo è stato il tema della partita. Sì, è chiaro che tu fai di tutto per aiutare, ecco, per portare i tuoi interessi, però voglio ribadire e sottolineare che nel secondo tempo il forio mi è piaciuto molto, i ragazzi hanno fatto delle buone trame, l'importante per noi allenatori, per lo staff tecnico è che alla fine la domenica parte, una piccola parte di ciò che viene provato in settimana, per cui si lavora in settimana, viene messo in atto e questa è la soddisfazione, al di là poi dei risultati, puoi vincerla, puoi perderla, puoi pareggiarla. Per esempio a Torre è annunziata, con il Savoia non è stato affatto così, abbiamo iniziato benissimo la gara, l'abbiamo finita benissimo e alla fine abbiamo perso. Ha evidenziato una situazione che abbiamo capito anche noi e cercheremo di lavorarci su per migliorare. Alla fine le analisi delle gare servono a questo, vedere dove hai delle problematiche, dei difetti, delle cose che non vanno e cercare di aggiustarle. Sarebbe bello come avere una bacchetta magica e dall'oggi al domani riuscire a risolvere, saremo tutti grandissimi allenatori di categorie super. Però hai evidenziato, hai fatto una giusta sottolineatura, cercheremo di migliorare questo aspetto.